Dopo il successo del giovane Mattia Testa, allievo di Agostino Cardamone nella finale regionale School Boys, anche Nassim Bouhsada, allievo dell'Irpinia Pro Ring di Sandro Frongilo, ha conquistato il gradino più alto del podio nella finale junior. Per la prima volta a livello giovanile l'Irpinia può vantare due campioni regionali e soprattutto due atleti che dalla giuria sono stati votati come i migliori dei rispettivi tornei. A questi va aggiunto anche Simone Piccariello della Contrada Box, allievo di Michele Piccariello, anche lui votato come miglior pugile del torneo junior 62 kg anche se di misura è stato sconfitto in semifinale. In vista dei campionati nazionali youth che si terranno ad Avellino nel palazzetto del country sport, l'Irpinia avrà due atleti per cui tifare e, se manterranno standard di combattimento sostenuti a Caserta per i regionali, c'è da ben sperare in vista dell'evento nazionale.